Salve a tutti ragazzi e questo è il mio modellino di E100 E' grosso Ovviamente è grosso e la foto a me non riesce a metterlo Già Cioè raga sinceramente fra i modellini preferiti che ho fatto Cioè guardate Mi sono espiato da un medico che ho visto su un panther dell'ultima produzione Quella di Berlino per intenderci Che era questa mia medica un po' così Fatta con il colo di fattoria di fabbrica Scusa ragazzi ma l'ho tarotto letteralmente all'inglese Perché in inglese si dice factory Il coso che piaceva di carri armati Quindi l'ho detto factory al posto di Come che si diceva di fabbrica E io ragazzi a me piace parecchio Fatemi sapere qua sotto nei commenti Allora ragazzi volevo ringraziare perché quel video Nella pesca di Minecraft Ha raggiunto quasi le 2000 view Eh ragazzi Vi voglio ringraziare veramente tanto